Salve a tutti. Il Made in Italy, che cos'è il Made in Italy? Un concetto valoriale fatto di qualità, di eccellenza, di qualità dei materiali utilizzati, di maestria nel produrre, nel creare prodotti di altissima qualità, come queste borse per esempio, questi zain, queste borse per la donna e via dicendo. Ricordiamoci sempre una cosa, se l'Italia, se il nostro paese, anche in tempi di turbulenze economiche, comunque più o meno è sempre riuscito a restare in sella, non diciamo a cale, diciamo in sella, come sopra un cavallo, lo si deve anche in particolare, non soltanto, ma in particolare anche alla capacità dell'export della nostra esportazione di mandare all'estero, di vendere all'estero prodotti così belli, così importanti. Quindi quando parliamo di piccole e medie imprese, o anche di grandi imprese, ricordiamoci che c'è tanta eccellenza che salva il nostro paese proprio sul versante degli introiti che arrivano grazie a questi prodotti di altissima qualità. E' per questo che è importante anche stare attenti a guardare il Made in Italy dalle mistificazioni, dalle falsificazioni, dai prodotti cosiddetti farlocchi, si dice in gergo, cioè da quelli che copiano cercando poi di vendere in giro per il mondo prodotti che italiani non sono, ma spacciandoli come italiani, con una qualità molto inferiore e con assolutamente nessun vero e proprio appeal valoriale, vero, che possa davvero valorizzare quindi il prodotto in sé. Quindi ricordiamoci questo, il Made in Italy ci salva e noi dobbiamo salvare il Made in Italy. Ciao a presto, ho un altro video sempre con Marco on the News. Ciao a tutti.